A seguito della segnalazione di una grave aggressione avvenuta nei giorni scorsi presso un bar della provincia di Salerno, ai danni di una persona che si trova tuttora ricoverata, gli agenti della divisione amministrativa hanno analizzato l'accaduto sotto il profilo dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, rilevando che l'esercizio commerciale di fatto fosse pienamente riconducibile agli aggressori e in più è stato il luogo dove gli stessi hanno trovato riparo dopo la lite. Il questore di Salerno Giancarlo Conticchio, in applicazione all'articolo 100 del TU, legge di pubblica sicurezza, ha sospeso la licenza del bar per dieci giorni. Lo strumento previsto da questa norma ha natura cautelare e risponde alla finalità di eliminare fondi di pericolo per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, fondandosi sull'aspettativa che chi gestisce un pubblico esercizio sottoposto ad un'autorizzazione pubblica debba mantenere sempre una condotta irreprensibile nei confronti della collettività. Quindi chi gestisce un pubblico esercizio deve sempre garantire che la propria attività sia rispondente ai canoni di moralità pubblica e di sicurezza per tutti i cittadini. Nel concetto attuale di sicurezza partecipata ogni cittadino ha un ruolo attivo da osservare per la costruzione della sicurezza, intesa non solo come tutela di rispetto alle forme di criminalità, ma anche come baluardo per la serena fruizione degli spazi e il pieno godimento delle libertà.